Sono molto contento che facciamo l'inaugurazione di Art Store, che è una grande azienda americana, soprattutto un'azienda della Silicon Valley, che lavora in uno dei settori di più grande sviluppo adesso, cioè lo storage ad alta capacità che serve per il cloud, per parlare in maniera semplice. Sono contento che vengano qui a Genova, perché la loro subsidia all'italiana sarà qui con sede a Genova. Questo è un laboratorio anche di ricerca e sviluppo, non soltanto di vendita, anche perché in questi business quando si vende, si vende tecnologia, quindi ci vuole della gente che faccia ricerca e sviluppo per ogni tipo di vendita. Abbiamo scelto Genova per una serie di motivi, come dicevo prima, sia a partire dai legami personali miei, essendo il genovese trapiantato a San Francisco, che anche alle visite del dottor Capato e del sindaco Bucci a San Francisco, e quindi è un discorso anche di network. Art Store è importante perché crea un ponte tra la Liguria e la Silicon Valley. Principalmente, come dicevo prima, Art Store non è un call center, non è un tech support center, è un'azienda che crea veramente innovazione. Quindi in un ecosistema globale è fondamentale collegare le punte di eccellenza, come la Silicon Valley, con la Liguria. La missione dell'ICE è quella di aiutare le imprese italiane ad andare all'estero, di internazionalizzarle, ma anche di portare capitale estero per investimenti diretti in Italia. Nell'ambito di questa seconda attività abbiamo avuto l'opportunità, insieme con il Comune di Genova, insieme con il Consolato e gli uffici del Ministero degli Esteri, insieme con Invitalia, di assistere Art Store, sia nella valutazione e individuazione della soluzione italiana, sia nell'accesso a quelle forme di incentivo che il sistema Italia offre per rendere attrattivo e per accompagnare la partenza in Italia di iniziative come questa. È un primo passo, è il frutto della spedizione che abbiamo fatto l'anno scorso, infatti sono contento, se da ogni spedizione viene fuori un'azienda vuol dire che stiamo lavorando bene. Mi sembra che qui, adesso se non sbaglio ci saranno le prime 30 persone, poi dopo col tempo cresceranno. Qui di fianco il sottoscritto 20 anni fa aveva portato 17 persone, che adesso sono 240, mi sembra. Quindi insomma, la strada è quella, la strada è quella. Io credo che l'intelligenza, le capacità e la volontà dei giovani oggi siano veramente il motore per riaccelerare e far ripartire l'economia della Liguria.